questo sarebbe un video presentazione di alcune mie borse che ho fatto in fettuccia e vi dirò dei tutorial i prossimi tutorial che farò ho realizzato questa borsa fettuccia questa l'ho realizzata nei manici in questo modo e questa che questa è la borsa in fettuccia che realizzeremo insieme nei prossimi tutorial inizieremo col tutorial nel realizzare il fondo proseguendo nel realizzare la borsa finendo nel realizzare il manico vi mando un bacio un saluto al prossimo tutorial ciao